Allora, un video su Milan-Juve perché comunque ho detto che probabilmente lo facevo, allora 0-1 partita condizionata chiaramente dal rosso perché secondo me se rimanevano in 11 la Juventus non vinceva ma secondo me non vinceva neanche il Milan sinceramente. Il Milan l'ho trovata molto inconcludente, cioè poi per carità ha fatto bene abbastanza i primi 15 minuti, forse 20, ha fatto un miracolo Cesni, Cesni criticato da tutti i Juventini, ragazzi, Cesni è un portiere della Madonna, partiamo da quel presupposto, poi avrà fatto qualche papera ma veramente ragazzi, Cesni è veramente un portiere della Madonna. Per il resto insomma, cosa dire, secondo me finiva 0-0 perché dopo il ventesimo comunque ho trovato un Milan inconcludente, poi dopo non mi ricordo che minuto era, verso il trentasettesimo, trentottesimo è arrivato il rosso, più o meno i minuti erano quelli. Forse anche dopo, non mi ricordo, giuro. Comunque io dopo il ventesimo ho trovato un Milan inconcludente, cioè non riusciva più a fare un'azione, non riusciva più a fare più un tiro in porta, la Juventus stessa cosa aspettava lì dietro, stava giocando malissimo. Poi dopo è uscita un pochino col tiro di Kostic, il tiro di Rabiot e poi inizio secondo tempo era partita molto bene il Milan, ma anche lì senza occasioni pericolose. Poi dopo vabbè è uscita la Juve, ha segnato con Locatelli, tiro deviato e da lì dopo è andata in discesa. Un risultato che sì, fa comodo, il pareggio faceva comodo in realtà anche il pareggio perché tenevi un po' più indietro la Juve e comunque il Milan sì ti raggiungeva gli stessi punti, ma comunque con gli scontri diretti tu eri in vantaggio. Però meglio così sinceramente perché siamo proprio da soli noi in testa, sì, dobbiamo gestirlo ragazzi, perché ogni volta noi quando siamo in testa ci caghiamo sotto, ogni volta, ogni cazzo di volta. Cioè la Roma è difficile sì, ma a San Siro raga, ce la si può fare ma proprio in scioltezza, posso dirlo proprio sinceramente. E niente, non ho niente da dire in realtà su sta partita perché è stata abbastanza noiosa, mi sono abbastanza rotto le palle nel vederla, forse è risultato migliore, anche se comunque vedere vincere la Juve non è mai bene, perché comunque anche la Juve è una diretta concorrente. Vabbè ragazzi, chiudo il video, scusate se il video è un po' noioso, però onessamente il mio stato d'animo di questa partita non è stato molto bello. E niente ragazzi, chiudo il video, ciao.